Continua l'emergenza a sbarchi lungo il litorale Ibleo. Nella notte tra il 16 e il 17 agosto le motovedette della Capitaneria di Porto di Pozzallo con l'assistenza di una terza unità dislocata temporaneamente a Portopalo di Capopassero hanno soccorso altri 95 migranti, 74 uomini, 20 donne ed una neonata di varie nazionalità Etiopia, Somalia e Mali. I migranti sono stati intercettati alle 21 circa a bordo di un gommone pneumatico lungo 15 metri in navigazione verso Pozzallo a circa 45 miglia dalla costa. Una volta intercettati in mare tutti i migranti sono stati subito trasbordati su una motovedetta CP304 che è arrivata al porto di Pozzallo poco dopo mezzanotte sbarcando in banchine i migranti presenti a bordo. Come di consueto sono scattate le operazioni di assistenza. Gli immigrati sono stati controllati e assistiti da tutte le forze di polizia locali, volontari della protezione civile e personale sanitario già presenti in porto.